Mi sono arrivate delle cosine da Shein e volevo, ho detto, visto che a loro piacciono tanto questi video dove organizzo, sistemo, eccetera, volevo appunto aprirle, vederle con voi e sistemare un pochino la disposizione della mia scrivania insieme. Più che altro andremo a fare la composizione floreale che ho tolto il bouquet perché mi ha stufato e voglio una cosa un pochino più semplice, infatti qui ho preso dei fiori. Poi vado a togliere i tulipani perché questi si sono ingialliti tantissimo. Non lo so, a me così giallini non mi piacciono per niente ed è strano perché qui dentro nessuno fuma, io non fumo, però sono diventati così. Devo capire se tenere comunque i tulipani oppure no. Iniziamo con il primo pacchettino che non c'entra niente, con l'arretamento della mia scrivania ed è questa cover che se vi va apriamo e proviamo insieme in un altro video perché mi sembra veramente carina e riprende il mio specchio, questo qua, wowie, troppo troppo bello. Iniziamo aprendo questa scatolina e vediamo cosa c'è. Io non so se lo avete notato ma ultimamente su Shein ci sono una marea di cose che vendono anche su Aliexpress, ma una marea tra le quali anche queste candeline. L'unica cosa, state attenti perché a volte non si tratta della candela ma dello stampo, andate sempre a vedere le foto delle recensioni, mi raccomando. E qui, piccolo disclaimer, mi viene un po' da storcere il naso perché conosco un sacco di small business che fanno loro queste candeline e adesso le troviamo a 2 euro su Shein. Insomma, non va benissimo. Infatti queste due qua le avevo prese entrambe da small business. La mia idea era quella di mettere la candela qua, praticamente al posto dei tulipani, e ora apriamo tutti questi fiorellini. Ok, ovviamente sono tutte ciaccate, le devo un po' aprire e sistemare, però devo dire che non sono poi così male queste foglie rosa. E questi sono due mazzetti, non capisco se mi piacciono o no, ma io avevo puntato tutto su quelle oro, quindi vediamo un po'. Ok, queste mi piacciono veramente tanto, tanto, tanto. Queste sono super ciaccate, bisogna sistemarle. Odorano un po' di vernice, secondo me. Quello che vado a fare semplicemente è infilare prima di tutto queste foglie qua che mi piacciono un sacco, così. Ok. Inserire anche un tocco di rosa. E infine le ultime foglioline oro. E il risultato è più o meno questo. Devo sparpagliarli meglio, non mi convince. Questo è più o meno quello che sono riuscita a dire fuori. Vi assicuro che non fa schifissimo, questo è orrendo. Però, boh, per adesso lo tengo così. Quindi, per il momento, la situazione è questa. E qui vado a mettere le mie vitamine per i capelli. Ed eccoci qua, che dite? Dai, non male. Grazie a tutti.